Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nostro dietro a un video Oggi abbiamo in progetto, ci siamo preparati stavolta in modo che così siamo più veloci Di fare un distrugge tutto, chiamatelo come volete, insomma dove buttarci dentro la roba come la terra, le cose inutile Adesso si faccio il distrugge tutto lì Ovviamente come vedete ragazzi l'ho bloccato in modo che così non ci può cadere dentro Trattamenti Vanno qui così uno butta la roba così come stavo facendo adesso Come vedete No vabbè è terra, io comunque lo pido con una cosa così di terra Perfetto, oggi ragazzi abbiamo in progetto anche di fare i vetri Oggi ragazzi abbiamo in progetto anche di fare i vetri Oggi abbiamo in progetto anche di fare i vetri Siamo però a casa di The Mouse, se vedete qualcosa che cambia, se vi accorgete c'è qualcosa di diverso Ad esempio che se senti The Mouse è un po' male, perché ovviamente è un pelo più lontano Staccato Ma non di tanto c'è Ma non di tanto c'è Ma di un colpo distruggeva la porta eh Ci vogliono fare caia Abbasso un po' il volume Sì Le galline, com'è che hai fatto a fare fuori dalla gabbia boh Ah perché c'è una gallina che aveva la testa dentro la gabbia Non so che mai Cioè intendi fuori? Sì 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 Perfetto Parliamo un po' di più che stiamo chiedendo Infatti dove sei te? Io sono sotto e sto facendo un altro campo Ah, stai andando avanti? Eh, io non lo metteremo, ma qua lo metteremo solo con le ducche Se non parla niente Ok, però in questo video avevamo in progetto, se ti ricordi, di fare... di spostare le galline e di fare con sopra una stanza più grande Eh sì, ma quello è quello che ho finito? Ok, ragazzi, se non ci spaccano la porta dentro, no? Stavo un attimo in un video, che così faccio il pezzo più noioso, poi lo rimetto Ragazzi, stiamo provando a ventare per l'ennesima volta, come ho detto prima E' un creeper Forse, non lo so bene Perché la crepe tra le porte e la carne verde del mondo Ok, proviamo ad aprire Ok Oh, scusami Ci sono i coglioni Ha preso fuoco Ma sono anche un coglione, però li sono andato conto Oh mio Dio, stavo laggando serve Oh, ma c'è un ragno Dani, se non mi dai la mano, crepo Ok Prendi la carne marcia Prendi la carne marcia che è rimasta lì È vero che prima Oh, là ci sono i... Eh sì Sembra che ti fossi detto assurdo Prendi notte che ho preso tutto lo spazio Ti devi riparare Ok ragazzi, vi stoppito il video e finiamo il lavoro Eccoci ragazzi Abbiamo fatto qualche piccola modifica, come vedete Faccio un po' vedere cosa c'è dentro le casse Qua Dani c'è un po' di casino in questa cassa Questa è un disastro Potremmo fare una cassa dove ci mettere oggetti momentanei? Tipo? Ho messo il video Ho messo il video Ho messo il video Ho messo lì così Mettila all'entrata Ho messo le sparse Potevi farlo fare anche Questo è l'albero che non si voleva tirare via Vediamo Infatti Quell'albero Io faccio l'esplazzo davanti a un creeper Vediamo se Io... Io l'argerò un po' Ma non riesco a liberare spazio dal computer Vabbè Questa zona qua è contaminata Non si può fare una cassa Ho matto la bingotina E poi lo farà via Vabbè ragazzi lo faremo dall'altra parte Uh c'è un arciere Eh infatti hai visto anch'io? E là c'è un curano Ho il cuore Dani Sono morto Dani Vai fuori Prendi tutta la mia roba Vai fuori Vai fuori Dai muoviti Dove ci sono le zucche Muoviti dai Dai che rigasera dai Dai eici Sì Aspetta la riprendo io La riprendo io C'è qualcos'altro? Ah c'è cosa c'è della roba ancora? Aspetta la riprende C'è una spalla là Nient'io Mi sembra di aver preso quasi tutto Ah c'è una alimentare pieno Ma puoi mettere la testa in una zucca che c'è la torcia? No Sarebbe stato non sarebbe stato Cioè sarebbe stato molto figo Il problema è che la No mi ha fregato la zucca Nella zona buggata mi ha fregato la zucca Chiesa cosa ci sarà un po' in pole Da qua in poi funziona Serve Ed è stato un errore per farci Grazie Guarda! Me la prendono pure Me la tira un po' più via Mi hanno fregato due zucche Ragazzi le zucche che volano non le ho mai viste Ti metti a tirare il video in questo momento Si sta mettendo un po' a posto Sì, ti metti un attimo in via il video Ok ragazzi ho rimesso il video Perché adesso Andiamo a caccia Prima faccio un attimo che faccio il mio letto Io però andrei quando c'è giorno Allora il letto si faceva Tre di lana sotto No, ho tagliato Tre di lana sopra E tre di lana Sì, perfetto abbiamo il letto Tanto se non possiamo fare tutto il video Non possiamo darmi la foto semplicemente Perchè a tirare il pensiero Perfetto abbiamo il kit da caccia Aspetta che metto via la lana Anche se l'ha assoluta su internet Allora Allora non la metto dove c'è la roba nara Aspetta lui ha fatto il pane vero Il pane com'è che si faceva se non mi ricordo Tre di lana oizzontale Aspetta, ah sì Aspetta un attimo stop Se non facciamo il pane Scusatici Controllato se era oizzontale su internet No, vabbè, è tutto questo Cacchio quanto Cacchio quanto Cacchio due Ah è vero, la dobbiamo fare anche la cucina Hai preso due? Sì No, ma l'ho già fatta la cucina Guarda quanto c'è La freccia in canna Ma non muori tu? Sì, devo con me Ficcione malattia Ma, ah, gli spazi c'è un abbastanza Ucciderei noi anche Perché non abbiamo più Ah, è diventato quasi giorno Dovemmo prendere anche della te Qua ci dobbiamo fare una stradina Fa schifo Abbiamo vinto un corso Un attacca di questo Un cacchio Non hai vinto te Eh sì Perché ho rotto due blocchi di Perché sei Ti ricordo che sei venuto Già che abbia Prima eravamo a casa mia Adesso sei con un altro computer Quindi in certo senso Sei un nuovo personaggio Quindi ti fa tutto da capo C'è un altro tipo di segno Dai vieni qua un attimo Andiamo Non è bellissimo proprio Però intanto bisogna farlo Non è proprio tipo avventura Vieni Andiamo In mano la spada Mi fai bovora Potevamo fare in un altro video Però dai Finiremo questo video Perché abbiamo ancora tre minuti Per quello che dicevo Andiamo a fare la Là c'è una gallina Perfetto Così La miniera No la miniera lo facciamo nel prossimo Se ce la facciamo Qua c'è un fungo Perfetto Che colore Grigio Sono quelli soliti Sì lo so Qua c'è un'altra gallina Aspetta che la ucciniamo Un colpo è morto Perfetto Ma cosa ci fai su un albero? Ma cosa ci fai su un albero? Vado a trovare i maiali Guarda da questa parte Ma io sono già subito Ci sono due galline sui alberi Oh Molti maiali Brava Ce ne sono un casino Ma come c'è? Wow Qua c'è una caverna sotto Che figata No Ah è solo una fonte così Da qualche peccata Allora Oh mio dio Devi guarda che bug Sotto pure della lava Vedi come è tutto rovinato Perché ci dovrebbe Secondo me Può essere sotto Sotto una caverna Ma se la sull'isola Alla fine È un'isola immensa Cioè basta che seguiamo la costa E arriviamo a casa nostra Che figata Che comodo Quante galline? E' un casino di uova Che Oh mio dio Come sta lagando Oh mio dio Dami Guarda quanta lava In superficie Dami c'è la lava in superficie Aspetta che riempio Se non lo sai Fa fatica Se non lo sai Fai fatica No Non sono davanti a casa Sono in un altro punto Qua c'è del carbone Ho capito Io non posso Mettere la lontana Vabbè Mettere la lontana Più un po' Oh Mi sta lagando Mettere la lontana Oh mio dio Mi hanno Mettere la lontana No No Perché si deve ricreare Appena si è ricreato Ti lago una follia Qua ti rovia un bug Oh Qua c'è una caverna Sì Non si trova Guarda una caverna Che si collega Alla caverna No Qui in un altro punto Oh mio dio Qua c'è del ferro Quanto è profondo Su sto posto Vabbè Ragazzi lo spereremo Nel prossimo video Perché oggi abbiamo finito Il tempo a disposizione Vabbè Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Da Adventure Magic E Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti